Siamo qui con Matteo Sgarzi del Serec. Quali sono ad oggi in Francia le politiche adottate per migliorare le competenze degli adulti più deboli? Sì, in Francia in questo momento è in corso un grande progetto di finanziamento di sperimentazioni sia nazionali che regionali che si chiama Piano per l'investimento sulle competenze che è un'asse prioritaria dell'attuale governo e quindi anche la partecipazione del mio centro studi francese in questo progetto che comunque è solamente italiano è molto pertinente proprio perché possiamo apportare l'esperienza di questa importante politica che si sta sviluppando in questo momento. Ci sono dei forti finanziamenti attraverso i quali i territori, le regioni e le agenzie sul territorio di Polamploie, che è un ente nazionale ma ramificato evidentemente sul territorio, possono beneficiare per sviluppare dei progetti, delle sperimentazioni dirette a una tipologia abbastanza varia di utenti. Sì, quindi parliamo ovviamente dei disoccupati ma parliamo anche delle persone a bassa qualifica, delle persone con handicap, di varie categorie diciamo più deboli che possono usufruire in questo momento di queste politiche e il mio centro ha come ruolo diciamo nel contesto istituzionale francese di valutarne l'impatto e di valutare appunto l'efficacia di queste sperimentazioni. Avete già dei risultati? Ancora no, è un po' presto perché diciamo che noi cerchiamo di fare un'osservazione in itinere e poi le valutazioni d'impatto si faranno magari un po' a bocce ferme diciamo così. Però, e poi soprattutto non abbiamo una copertura totale perché non l'ho detto, questo piano di investimento delle competenze è un piano da 15 miliardi di euro in quattro anni quindi è veramente qualcosa di molto grosso e quindi noi ci occupiamo di alcuni settori diciamo. Quindi, però ecco, fa parte veramente delle strategie del nostro centro studi e diciamo che lavoreremo su questo fino al 2022. Grazie. Prego. Grazie.